ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco vitigel a cosa serve vitigel a un parafarmaco appartenente alla categoria degli rinfrescanti tonificanti idratanti multifunzione gambe e piedi è commercializzato in italia dall'azienda marco vitifarmaceutici spa informazioni commerciali titolare marco vitifarmaceutici spa concessionario marco vitifarmaceutici spa categoria di appartenenza rinfrescanti tonificanti idratanti multifunzione gambe e piedi confezioni vitigel crema antigeloni 50 ml fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato